buongiorno ragazzi buongiorno a tutti sto aspettando ancora la camera purtroppo ne ho due palle e non finiscono più perché stamattina ho comprato anche un mvme della western digital da 2 tera ho comprato il monitor 32 pollici curvo per pc ultra hd cioè io le cose ce le ho avevano promesso entro i 15 la camera ma che mi arriva ste cose qui dove le fico io non siate volgari che mi sento da dietro dio dio non so che cacchio fa ragazzi perché veramente mi trovo in alto mare non posso fare niente non posso fare niente io sono 20 giorni che sono senza pc senza pc fisso con la camera tutta per aria in camera mia una scrivania la tv e xbox basta a po uno fa una vita così tutto per aria carica batterie interno non c'è nulla in sto caso c'è il letto e basta pesante la situazione pesante sono accampato in casa mia senza contare il fatto che poi bisognerà trasferire tutto dai cassetti rimettere dentro poi quando arriva la camera cosa devo fare io che nel pc o 3rdisc normali monterò la nvme tag poi tre hard disk o un ssd del sistema operativo la o tre hard disk uno da un terra quasi pieno una due terra quasi pieno e uno da due terra nuovo non c'è nulla dentro vado a clonare quello da un terra su quello da due terra e poi stacco quello da un terra e lascio quattro terra in hdd meccanici e poi metto due terra di nvme e le ssd per il sistema operativo e sono a posto volo però purtroppo anche perché poi quando arriva la camera mi servirà un giorno fast operazioni qui ora di rimette a posto la webcam e programmi le cose un giorno mi serve per sistemare tutte le mie cose sicuro quindi un po vi dito due palle due palle ragazzi su un po vito e stanco ad aspettare c'è ho tutto per aria o le mie cose da fare non posso sta così posso sta così con tutto per aria e vabbè comunque appena poi sistemerò tutto farò anche delle live qua non so se su questo canale o su quello delle live credo su quello delle line quindi magari la prima la faccio qui la seconda la facciamo di la così nella prima spammo il link e niente niente le mie live su twitch stanno continuando la notte ora porterò un videogioco che si chiama il suicidio di rachel foster e vediamo un po come va ragazzi vediamo come va io con sta cosa qua sono distrutto perché ho tutte le medicine in giro per casa e vestiti in giro per casa un cassetto in garage l'altro cassetto di qua scrivania su mobile giù le scarpe sparse ovunque la rega la rega come se fa così così dio bono dio bono vuoi che è stata fa stata fa i piavoli purcelloni sempre prendo cappellati tutti quanti mannaggia